Musica Tutte le industrie che fanno i sieri sono in mano ai tre più potenti fondi finanziari del mondo che sono BlackRock, State Street e Vanguard. Non è gente che fa beneficenza o scienza. Ah, io mi fido della scienza. Ma tu chi sei per fidarti della scienza? Cosa capisci della scienza? Solo perché un cretino te l'ha detto? Dobbiamo verificare. Quindi oggi, siccome è tutto nelle mani dell'alta finanza, è tutto business. È stato chiesto a un capo mafia qual è il business più importante che cosa nostra ha? Questo lo ha guardato al giornalista, gli ha sorriso e gli ha detto l'uomo, siamo noi il business più importante. O la capiamo o non la capiamo. E se la capiamo non ci dobbiamo più fidare perché dietro il presunto esperto ci può essere un interesse sulla nostra pelle. E questo è molto grave. Dico bene, avvocato? Grazie.